Professor Lombardo, un fine settimana importante per la Lilt, ci sarà questo convegno per parlare del sistema della prevenzione oncologica e poi il giorno dopo la passeggiata della salute. Sì, è una manifestazione molto articolata che prevede la prima giornata una parte di attività scientifica con la prevenzione primaria per i ragazzi, fatta dai ragazzi, nelle scuole laddove abbiamo creato il sistema salute. Poi ci sarà una parte dedicata alla prevenzione secondaria dei tumori della mammella e del melanoma. Il giorno dopo invece, il 27, non ci sarà solo la passeggiata della salute ma ci sarà la passeggiata, ci saranno i podisti, ci saranno i ciclisti, ci saranno anche delle mini corse atletiche e poi ci sarà anche dal mare l'uscita delle canoe, delle barche a vela, delle barche della Lega, della Lega Italiana Navale e anche un gruppo di bambini che andranno con i poni sulla spiaggia. Professor Lombardo, la prevenzione resta fondamentale? Con la sola alimentazione si può abbattere l'incidenza del cancro del 30-35%, con la sola prevenzione alimentare, con la prevenzione, con gli stili di vita e le abitudini di vita e l'abolizione del fumo si arriva fino ad oltre il 40%.